Ma secondo voi, no? Nel momento in cui voi sentite questa cosa... Artur, visto che per lui non era giocatore, non era buono, non lo teneva in considerazione, oggi è andata a Liverpool e Liverpool è una delle squadre più forti al mondo, con uno degli allenatori più forti della storia del calcio. Ci sarà un motivo che Liverpool e Klopp vogliono Artur e lo prendono? Cosa significa? Che in questo paese di incapaci e di mediocri bisogna iniziare a guardarci allo specchio e sputarsi negli occhi. Probabilmente in cuor vostro già sapete come andrà a finire la questione, quindi figuriamoci se poi in tutto questo si va a giungere pure quest'altra. La notizia è che Artur è talmente scarso che è andato a Liverpool. Quindi, dopo aver dato dello scarso ad Artur, diamolo anche a Klopp. Povero calcio. Hanno distrutto, prima di farla iniziare di fatto, la stagione del Liverpool, che in Champions League probabilmente uscirà contro il Real. Ecco, ovviamente non si parla di Villareal a Lione e Porto, però di fatto gli hanno ucciso la competizione internazionale. Campionato sono a meno 6 dalla zona Champions League, quindi presupposti ci sono, però ovviamente noi non è che siamo qui per parlare tanto del Liverpool, ma per parlare di Artur, che tra le altre cose è sempre giusto ricordare che fondamentalmente all'interno della stagione 2022-2023 con la maglia del Liverpool ha collezionato addirittura questo minutaggio qui. Infatti qual è la notizia che sta rimbalzando un pochino negli ultimi giorni, ma che in cuor nostro eravamo consapevoli che si sarebbe avverata senza il bisogno di leggerlo in giro, ovvero che Artur a partire da luglio tornerà ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, perché al netto delle cifre che il Liverpool avrebbe dovuto sborsare per il cartellino del giocatore sui 37 milioni e mezzo di euro, ma almeno Stabon che 4 milioni e mezzo di prestito ce li siamo presi, giustamente i Reds che cos'è che ti sono andati a dire, se casse, nel senso te lo tieni te in tutta tranquillità, anche perché voglio dire se devo pagare 40 milioni un giocatore che magari in una stagione mi fa mezz'ora, forse direi che per quanto io possa avere anche effettivamente dei soldi, perché sono uno dei club di punta della Premier League, con tutto il bene del mondo facciamo che anche no, facciamo che te lo puoi tenere, te lo puoi tenere, però tranquilli perché già si sta parlando di un'ipotesi o Gremio o Palmeiras, sono molto curioso che effettivamente magari puoi effettivamente girare il giocatore a una di queste società, va benissimo, lo puoi fare fino a prova contraria, ma con quale modalità lo potrai mai fare? A titolo definitivo, considerando che appunto è già un giocatore che non gioca da un anno di fatto, perché questo è né più né meno che tra le altre cose, ha un residuo a bilancio superiore ai 30 milioni, la vedo un pochino difficile come cosa, non è proprio semplicissima, infatti guardate per tutto il marasma plus Valenze, io l'unica cosa che mi sento davvero di criticare alla Juventus è proprio questa qui, col senno di poi, è vero che magari tu puntavi su Arthur proprio da un punto di vista sportivo, non di bilancio perché era un giovane che giocava già nel Barcellona, aveva comunque già delle presenze con la nazionale brasiliana, aveva fatto vedere di avere delle qualità, questo senza ombra di dubbio, non metto in discussione questo, però insomma metterlo a bilancio per 70 e passa milioni, 78 se non sbaglio inizia ad essere, perché se magari è un Matthijs de Ligt che bene o male ti può arrivare, il Bayern Monaco che ti offre quei 70 milioni e tanti saluti, ecco non è detto che possa andare con tutti quanti nello stesso identico modo, perché lo sappiamo bene che per quanto Arthur fosse un giocatore talentuoso, importante, che comunque anche su Transfermarkt era valutato più o meno sulla cinquantina di milioni, metterlo a bilancio per 78 post pandemia, tra le altre cose perché Arthur è arrivato nella stagione di Andrea Pirlo, ecco questo ti avrebbe potuto portare dei problemi che puntualmente ti si sono presentati alla porta e in questo caso lo ribadisco, non mi riferisco tanto a Kine and Company, mi riferisco proprio all'ennesimo problema che per l'ennesima volta si presenta in casa Juventus, ovvero quello che in un modo o nell'altro tu non riesci a sbarazzarti di determinati giocatori. Sembrava un sogno che all'ultimo il Liverpool pare essere anche disposto a spendere nel complessivo più di 40 milioni per Arthur, come il Chelsea per Zacharia, come il Leeds per McKennie. Quindi quanti di questi probabilmente verranno riscattati? Non lo so. E purtroppo nel momento in cui magari ti dovessero tornare, questo non è tanto l'esempio di Zacharia perché comunque l'hai preso a parametro zero, ma nel caso di Arthur assolutamente sì, perché anche se dovesse ritornare ci avrebbe un residuo a bilancio, come abbiamo detto prima, superiore ai 30 milioni di euro, che quindi sta a significare che tu se lo vuoi vendere a tutti i costi per non fare minusvalenza lo devi vendere a quella cifra lì. O presumibilmente come accadrà, trovare un'altra squadra che sia disposta a prenderlo in prestito, magari con diritto di riscatto, ammortizzando il giocatore per un'altra stagione, abbassando quindi la soglia per non fare minusvalenza di ulteriori 15 milioni e poi magari durante il calciomercato in vista della stagione 2024-2025 si vedrà. E questa è una critica che è giusto fare alla Juventus, perché l'abbiamo visto. Quante volte abbiamo parlato di giocatori che nonostante tutto rimangono lì, o per il troppo stipendio, o perché erano stati valutati per una serie di ragioni differenti, magari a cifre esorbitanti, e quindi poi in un qualche modo o facevi minusvalenza, o li davi in prestito e poi puntualmente ritornavano, o prendevano troppo. Quindi stesso identico discorso. Io a titolo definitivo quel giocatore non me lo prendo. Se ci dividiamo magari lo stipendio, io cerco di valorizzartelo, magari anche sì, cosa che poi però puntualmente non accadeva mai. De Sciglio al Lione, Rugani al Ren e poi al Cagliari. Bernardeschi che sembrava tante volte vicino a diverse squadre, poi è prevalsa la legge di Sora Camilla, che tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia. E questo di conseguenza porta sempre a degli intoppi a livello progettuale. E questo non ce lo dobbiamo nascondere, perché tanto sono critiche che spesso e volentieri sono state mosse anche in tempi passati. È ovvio che magari farlo adesso lo si accosta a chi ne è and company, ma è proprio un discorso generale, che va al di là della giustizia sportiva, del discorso dei bilanci e quant'altro. Proprio a livello di progettualità, a livello di campo e poi di conseguenza magari anche di successi. E quindi di fatto nulla. E adesso vedremo che cosa capiterà quest'estate, perché insomma probabilmente un club lo potresti anche trovare, il Palmeiras, il Gremio, ma dopo una stagione in Brasile con che valutazione ti può tornare? Anche magari dovesse far bene. Chi lo sa? Magari Allegri deciderà di puntare sul giocatore? Qui onestamente se ridubbi vedendo la scorsa stagione e vedendo come sia stato fatto di tutto per mandarlo via durante la sessione estiva della scorsa di stagione. Beh, 2022-2023, comunque l'estate scorsa, di fatto. Poi, se dovesse anche cambiare allenatore, ci potrebbero essere dei discorsi differenti. In tutto questo, senza sapere a che cosa potrà ambire a tutti gli effetti la Juventus 2023-2024, dove, come, giocando, se, forse, chi lo sa, quale competizione. E' tutto un se e tutto un ma e probabilmente certi riscatti ci avrebbero tolto qualche problema in più che si presenterà puntualmente. Però di fatto questo è, ragazzuoli, nulla. Un piccolo sfogo, ma ogni tanto penso ci voglia. Serve anche quello, ogni tanto. Non ce lo possiamo negare. Detto questo, nulla. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve! Forza Juve!